il fegato è uno degli organi più importanti ogni giorno svolge molte funzioni vitali per mantenerti vivo e vegeto o viva e vegeta e qualsiasi suo danno può influire in modo significativo sulla tua salute ciao a tutti e bentornati a uno stile di vita sano il modo principale con cui il tuo corpo espelle le tossine è attraverso il fegato disintossica e purifica il tuo corpo filtrando continuamente il sangue dai veleni che vi entrano ma quando diventa sovraccarico di lavoro a causa dello stress o dell'eccessiva esposizione alle tossine l'intero sistema può essere sbilanciato e la tua salute venire gravemente compromessa uno dei modi migliori per mantenerlo in perfetta forma e mangiare i cibi giusti nel video di oggi ti parleremo dei migliori alimenti che possono purificare naturalmente il tuo fegato dall'aglio ai limoni dalla curcuma alle mele fino al cavolo riccio e altro ancora guarda fino alla fine per conoscerli tutti 1 tè verde il tè verde è usato da moltissimi anni come aiuto medicinale secondo uno studio bere tè verde ogni giorno è associato a un miglioramento dei marcatori ematici della salute del fegato è anche ricco di antiossidanti che proteggono il tuo corpo dai radicali liberi che possono causare malattie degenerative aiuta anche a mantenere il tuo corpo in equilibrio e protegge da alcuni tipi di cancro 2 aglio l'aglio è ricco di zolfo e contiene anche buone quantità di selenio mentre il primo aiuta ad attivare gli enzimi epatici che aiutano a eliminare le tossine dal corpo il secondo aiuta ad aumentare i livelli di enzimi antiossidanti naturali nel fegato mangiare aglio aiuta il fegato anche a combattere i danni causati dallo stress ossidativo 3 pompelmo il pompelmo è ricco di vitamina c e antiossidanti due potenti depuratori del fegato come l'aglio il pompelmo contiene composti che aumentano la produzione di enzimi di disintossicazione del fegato contiene anche un composto che fa bruciare i grassi al fegato invece di immagazzinarli 4 limoni i limoni amano il tuo fegato e il tuo fegato ricambia sono un alimento purificante naturale ed essenzialmente uno dei migliori per far funzionare le cose in tutte le aree del tuo corpo i limoni forniscono antiossidanti in abbondanza principalmente vitamina c e aiutano il fegato a produrre più enzimi questo ti dà più energia e aiuta con la digestione sono anche un sostituto naturale del sale questo perché sono ricchi di elettroliti che supportano il tuo corpo ma non disidratano le cellule come fa il sodio in effetti sono spesso raccomandati come sostituti del sale per le persone che seguono una dieta per le malattie del fegato i limoni sono anche alcalinizzanti per il corpo nonostante di per sé siano acidi una volta entrati nel corpo aiutano a neutralizzare le tossine espelle dei rifiuti e avviare l'intero processo digestivo 5 barbabietola rossa ecco cosa può fare questo ortaggio viola sul tuo piatto di verdure arcobaleno per il tuo fegato le barbabietole contengono antiossidanti flavonoidi acidi fenolici e vitamina c che proteggono il fegato dallo stress ossidativo causato dagli agenti cancerogeni se mangi regolarmente barbabietole il tuo fegato dovrebbe essere protetto dai composti tossici il succo di barbabietola ottenuto da una barbabietola grande è sicuro per il consumo quotidiano bevi questo succo due tre giorni a settimana 6 frutta a guscio il contenuto di grassi e nutrienti sani inclusa la vitamina e nelle noci le rende buone per il fegato uno studio ha scoperto che il consumo regolare di noci migliora i livelli di enzimi nel fegato inoltre è stato riscontrato che gli uomini che mangiavano meno noci erano a maggior rischio di sviluppare una steatosi epatica non alcolica rispetto a quelli che ne mangiavano di più per una buona salute è consigliata una manciata di noci fino a 30 grammi ogni giorno 7 olio d'oliva sostituisci la tua bottiglia di olio vegetale con olio d'oliva per un sano funzionamento del fegato uno studio ha scoperto che il consumo di olio d'oliva ogni giorno migliora gli enzimi epatici e i livelli di grasso i partecipanti hanno anche notato una diminuzione del grasso epatico e un migliore flusso sanguigno nel fegato l'olio d'oliva può anche migliorare i livelli ematici degli enzimi epatici si consiglia di assumere un cucchiaino o circa 7 millilitri di olio d'oliva ogni giorno 8 curcuma nessuna lista di purificazione del fegato sarebbe completa senza la curcuma spezia anti infiammatoria e curativa naturale è stata usata per trattare i problemi al fegato per secoli la curcumina nella curcuma previene l'accumulo di grasso nel fegato aumenta anche gli antiossidanti naturali coinvolti nella disintossicazione del fegato aggiungi circa 3 grammi di radice di curcuma in polvere nella tua dieta ogni giorno tuttavia se soffri di sindrome infiammatoria intestinale riduci il dosaggio inoltre per aumentare l'assorbibilità della curcumina uniscila al pepe nero 9 broccoli sono a forma di mini alberi i broccoli danno la vita al tuo corpo le brillanti sfumature verde indicano l'alto livello di antiossidanti e clorofilla che si trovano nei broccoli i broccoli sono ricchi di fibre che purificano naturalmente il corpo da agenti cancerogeni e altre tossine broccoli cavolfiori cavoletti di bruxelles e altri membri della famiglia delle verdure crocifere contengono anche un composto che aiuta il fegato a produrre determinati enzimi questi aiutano nella rimozione delle tossine e aiutano la digestione i broccoli sono anche una buona fonte di vitamina e liposolubile un antiossidante particolarmente importante per il fegato 10 patate dolci le patate dolci insieme alle carote e alla zucca invernale come la zucca butternut e la zucca violina sono tutte ricche di beta carotene questo è un nutriente anti infiammatorio naturale che il tuo corpo ama il beta carotene viene convertito in vitamina a nel corpo direttamente nel fegato è importante assumere la vitamina a attraverso cibi ricchi di beta carotene al posto degli integratori gli integratori con troppa vitamina a possono essere tossici per il fegato poiché è una vitamina liposolubile ciò significa che viene immagazzinato più di quello che viene espulso le patate dolci e altri alimenti ricchi di vitamina a tuttavia non causano tossicità epatica e non possono essere conservati per un uso a lungo termine come invece succede con gli integratori le patate dolci sono anche ricche di fibre e vitamina c altri nutrienti purificanti e immunitari che aiutano la funzionalità epatica al meglio 11 mele le mele sono ricche di pectina la fibra solubile che aiuta a rimuovere le tossine e il colesterolo dal sangue questo aiuto il tuo fegato alla grande sono anche ricche di acido malico un nutriente purificante naturale che rimuove gli agenti cancerogeni e altre tossine dal sangue le mele granny smith sono particolarmente ricche di acido malico oltre ad essere una delle varietà di mele più ricche di antiossidanti ciò nonostante pur essendo tutte le mele ottime per il tuo fegato devi assicurarti di scegliere quelle biologiche poiché le altre sono una delle peggiori fonti di pesticidi 12 caffè anche se abbiamo tutti sentito dire che troppo caffè fa male quantità moderate di questa popolare bevanda possono apportare reali benefici per la salute compreso un rischio ridotto di malattie del fegato numerosi studi hanno dimostrato che le persone che bevono caffè hanno meno probabilità di sviluppare la cirrosi epatica rispetto ai non bevitori di caffè il caffè può anche migliorare la salute del fegato regolando gli enzimi epatici un indicatore comune della salute di questo organo 13 pesce grasso i pesci grassi come salmone sardine e aringhe sono una buona fonte di acidi grassi omega 3 gli studi suggeriscono che i fegati danneggiati dalla cirrosi hanno livelli più bassi di questi acidi grassi rispetto a quelli sani e che l'aumento degli omega 3 può aiutare con questa malattia nel lungo termine gli omega 3 hanno anche proprietà anti infiammatorie e anti tumorali e potrebbero aiutare a ridurre la steatosi epatica detto questo se mangi i pesce di mare assicurati di scegliere quello a basso contenuto di mercurio per evitare ulteriori danni al fegato se non ti piace il pesce l'assunzione di olio di pesce per il fegato grasso offre alcuni degli stessi vantaggi 14 cardo mariano un rimedio naturale a base di erbe il cardo mariano può essere gustato con una tisana ottima per il tuo fegato alcuni fan di questo ingrediente lo usano anche nei frullati e nelle insalate la silimarina un composto antiossidante e anti infiammatorio contenuto nei suoi semi può offrire protezione non solo dalle tossine nella dieta ma anche da farmaci come il tilenol che causano danni se assunti a dosi elevate la ricerca suggerisce che potrebbe anche aiutare a ringiovanire e riparare il fegato favorendo la crescita di nuove cellule 15 avocado raramente pensiamo agli avocado come a un alimento purificante ma questi forzieri nutrizionali abbassano il colesterolo e dilatano i vasi sanguigni mentre bloccano la tossicità che distrugge le arterie gli avocado contengono un nutriente chiamato glutatione che blocca almeno 30 diversi agenti cancerogeni mentre aiuta il fegato a disintossicarsi dalle sostanze chimiche sintetiche oltre ai benefici per la pulizia del fegato gli avocado hanno una vasta gamma di benefici per la salute per il tuo corpo 16 bacche purifica il tuo corpo in modo naturale dandogli molte bacche ricche di polifenoli e antociani questi nutrienti sono potenti agenti anti infiammatori e potenti antiossidanti uno studio ha scoperto che le bacche sono particolarmente efficaci nella prevenzione del fegato grasso i mirtilli rossi in particolare hanno ridotto significativamente il grasso corporeo nei soggetti sottoposti a una dieta ricca di grassi 17 cavolo il cavolo contiene numerosi composti antitumorali e antiossidanti e aiuta il fegato ad abbattere gli ormoni in eccesso pulisce anche il tratto digestivo e neutralizza alcuni dei composti dannosi presenti nel fumo di sigaretta e nel fumo passivo rafforza anche la capacità del fegato di disintossicarsi 18 cavolo riccio cuoci a vapore un po di cavolo riccio per beneficiare dei suoi potenti composti antitumorali e antiossidanti che aiutano a purificare il corpo dalle sostanze nocive e anche ricco di fibre che aiutano a purificare il tratto intestinale come il cavolo il cavolo cappuccio aiuta a neutralizzare i composti presenti nel fumo di sigaretta e rafforza la pulizia del fegato 19 fico d'india il fico d'india è un tipo di cactus commestibile che veniva usato nella medicina tradizionale come trattamento per le malattie del fegato uno studio ha scoperto che l'estratto di questa pianta riduce i sintomi di una sbornia tra cui nausea secchezza delle fauci e mancanza di appetito questo beneficio è stato amplificato quando i partecipanti allo studio hanno mangiato l'estratto prima di bere alcolici poiché l'alcol viene scomposto dal fegato i ricercatori hanno esaminato l'esatto effetto dell'estratto sul fegato grazie grazie hanno scoperto che riduceva l'infiammazione che spesso si verifica dopo aver bevuto alcolici